Furti d'auto, vetture incendiate e pneumatici spariti nella notte. E questo è il bilancio nelle ultime 48 ore nella BAT, con quattro gravi episodi che hanno caratterizzato due dei tre capoluoghi di provincia. Barletta è la città più colpita, con due casi in rapida successione tra mercoledì notte e venerdì mattina. Prima un incendio di un'auto in zona 167 alla periferia ovest. Nella notte tra mercoledì e giovedì, un uomo ripreso con un cellulare ha piccato le fiamme su una vettura alle spalle di un noto bar cittadino per poi darsi alla fuga a bordo di un'altra macchina appostata nelle vicinanze. Giovedì, invece, un imprenditore marchigiano che si trovava a Barletta per lavoro ha dovuto constatare il furto della sua vettura. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere che hanno immortalato anche i due responsabili giunti indisturbati sul posto. Anche Trani deve fare i conti con due episodi avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì. Furto di pneumatici ai danni di due auto, uno in via Mosse da Trani e l'altro nel centralissimo incrocio tra Corso Cavour e Piazza della Repubblica con l'intervento di una volante dei carabinieri. Nella mattinata la BAT resta terra di conquista nonché prima provincia in Italia per furti e danni alle auto.